Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Il mio nome è Rossella Pani, insegno alle persone come connettersi con le nuove frequenze di luce e mi trovo qui con Fabrizio Drago. Buonasera Fabrizio, come stai? Ciao Rossella, tutto bene, grazie. Ciao Fabrizio. Fabrizio ha partecipato al corso di nove settimane online dal vivo su Zoom e ha imparato a connettersi con le nuove frequenze, non solo, abbiamo fatto anche un grande lavoro con Logo Sealing ed è qui per lasciare la sua testimonianza, adesso vediamo cosa ci racconta. Fabrizio dimmi un po' come è andata questa esperienza. È andata molto bene, il corso mi è piaciuto molto, io da sempre ho avuto, come dire, sono stato un ricercatore, no? Perché la realtà fin da piccolo, la realtà in cui vivo, mi è sempre stata un po' stretta, quindi ho sempre sentito qualcosa che non mi tornava, no? Quindi ho fatto anch'io tanti corsi, ho avuto tante esperienze, però devo dire quando ti ho trovata, che io ti ho conosciuta perché ho visto un tuo video su Facebook, diciamo fin da subito che ho sentito, diciamo, la tua presentazione, che hai raccontato un po' la tua storia, un po' il tuo vissuto e i corsi che fai, ho sentito subito, da subito una risonanza, quindi il lavoro che fai, che fai, mi è risuonato molto e ho sentito proprio questa spinta, no? Di provare a, diciamo, a seguire il corso, per sentire le nuove frequenze di luce. E come è andata? Devo dire che mi ha, mi ha aiutato molto, 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 molto bene, molto bene. Io, sì, avevo anche, faccio anche altri percorsi, cioè altre cose, ho anche il primo livello di Reiki, però devo dire che queste nuove frequenze le sento, le sento molto forti. Sì, da subito avevo un pochino di difficoltà, ma è stata una cosa, diciamo... Solo iniziale, dai. Sì, solo iniziale, poi ho iniziato proprio da quasi subito, diciamo così, a sentire queste, queste, questa energia che sento molto forte ed effettivamente è vero, più, più, anche quando la provavo su di me, più, diciamo, come dici tu, come racconti tu, più ti allontani e più aumentano. Più diventano potenti. Più diventano potenti, al contrario magari di altre tecniche dove invece è il contrario, no? Esatto. Esatto. E sono particolari. È infatti, molto particolare, quindi ho avuto modo proprio di provarlo in prima persona questa cosa. È bello. Aspetta, una curiosità. Hai l'Arcangelo Michele dietro di te. Sì, perché a me, adesso mi è venuto anche a me il pallino di mettermi, mettermi come te lo sfondo con l'Arcangelo Michele. Ma quindi lo senti vicino a quest'Arcangelo Michele? Sì, io sento, sento che comunque avverto una, avverto una presenza, poi ovviamente io non sono uno che canalizza, magari non ho certi doti particolari, però effettivamente avverto, avverto che qualcosa, qualcosa c'è. Secondo me sicuramente la sua influenza è presente. Sono contenta. Ascolta, cosa ne pensi delle preghiere che vi ho dato in dotazione per prepararvi a questo percorso, ma anche per utilizzarle sempre, perché comunque queste preghiere ti proteggono, ti liberano, ti guariscono. Cosa ne pensi? Dimmi un po' il tuo feedback. Secondo me le preghiere sono molto importanti, specialmente in questo momento storico particolare che stiamo attraversando. Io, per me sono di grande aiuto. Ammetto che potrei, a volte non riesco sempre a farle tutte, però faccio sempre in modo il possibile, assolutamente. Che foglio. Perché veramente ti aiutano, ti aiutano anche a passare i momenti difficili, a venire fuori da certe situazioni, ti danno, secondo me, ti danno una grossa mano. Cioè la mano, l'aiuto dell'Arcangelo Michele in questo momento in particolare è importante. È importante. L'ultima domanda, poi ti lascio andare. Dimmi un po', che impressione hai avuto del lavoro che abbiamo fatto con Logo Sealing per sciogliere i blocchi, le paure, le credenze limitanti? Dimmi un po'. Bianche Logo Sealing lo reputo sicuramente uno strumento potente, utile, proprio perché noi abbiamo bisogno, noi lo sappiamo, cioè noi ci portiamo dietro un sacco di condizionamenti, credenze, fin dall'infanzia, da quando siamo nati, no? Specialmente i primi anni di vita sappiamo che sono quelli più, quelli dove proprio ci hanno inculcato. Appunto, quindi è fondamentale andare a rimuovere tutte quelle convinzioni, blocchi, credenze limitanti e quindi andare a rimuovere per poi mettere, per poi fare come quando tu devi, come dire, no? Hai un programma sul computer, devi disinstallare e poi reinstallarne uno nuovo, no? Ascolta, e cosa ne pensi del mio metodo per reinstallare le credenze? Ti è piaciuto la riprogrammazione? Ti è piaciuta? Sì, 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 assolutamente, anche quella è fondamentale se vogliamo, come dire, sì, cioè va bene togliere le vecchie credenze, deprogrammare, ma poi bisogna, come dire, entrare in un nuovo set mentale, ecco, quindi essere predisposti a raggiungere tutto quello che sono i nostri obiettivi, i nostri desideri. Giusto, certo. Dall'abbondanza, ma tutto il resto, relazioni, tutti gli aspetti della vita, assolutamente. Ascolta, ma tu adesso ti senti indipendente, autonomo in questo lavoro, dopo le nove settimane? Sì, diciamo che sono a buon punto, sicuramente, sto lavorando tutti i giorni, quindi pratico le preghiere, insomma, cerco di fare tutto il lavoro che ci hai insegnato in questo bellissimo corso di nove settimane. Assolutamente, poi ci sono le registrazioni, lo puoi riguardare tutte le volte che vuoi. Sì, infatti, poi tu lasci sempre le registrazioni, quindi uno, qualsiasi cosa, uno può vedersene tutte le volte che vuole, infatti. Assolutamente, e a chi lo consiglieresti questo corso? Ma io lo consiglierei a tutti, tutti quelli che vogliono, insomma, migliorare la propria vita, insomma, avere un aiuto nella propria evoluzione, nella propria crescita, assolutamente questo corso può dare una grandissima mano. Assolutamente. La mano, poi, la mano dell'Arcangelo Michele è veramente un turbo. Esatto. È veramente il turbo. Esatto, esatto. Che bello. Grazie Fabrizio, grazie per la tua testimonianza, io lo apprezzo infinitamente. Tu sei stato uno dei miei migliori allievi. Grazie, ti ringrazio. Il cuore è veramente, sei un'anima speciale e spero che tu porterai questo dono nel mondo per aiutare te stesso, ma anche gli altri sicuramente, no? Vero Fabrizio? Tu hai intenzione di farlo anche per aiutare gli altri, giusto? Sì, sì, assolutamente, sì, sì. Bene, bene. Bene, sono contenta. Bene, Fabrizio si trova a Torino. Se volete ricevere delle sessioni di riequilibrio energetico, lui è ben felice di operare, no? Con questi insegnamenti meravigliosi e con le nuove frequenze di luce. Faccio un po' di pubblicità. Assolutamente, ti ringrazio. Sono a disposizione. Assolutamente, assolutamente. Io ti saluto, caro Fabrizio, un abbraccio grande a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. A presto, grazie. Grazie mille, Rossella, un abbraccio. Ciao Fabrizio, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.